Exoratix, benvenuti! Oggi siamo qui con questa bellissima Fiat 500X, colorazione nero perla. Parte laterale notiamo cerchi in lega da 17 pollici grigi, vetri oscurati posteriori a una vettura che misura circa 4,26 m in lunghezza e circa 1,80 m in larghezza. Passando alla parte posteriore notiamo sensori di parcheggio, bagagliaio d'apertura manuale con un'ampiezza di circa 350 decimetri cubi. Passando dalla parte del passeggero notiamo interne in pelle misto stoffa, presa USB posteriore e vetri eventualmente elettrici. Nella parte anteriore invece abbiamo un cambio manuale a 6 marce, doppia presa USB, schermo touch con possibilità di connessione Bluetooth, sul volante limitatore cruise control di velocità e aria condizionata automatica. Si tratta di una vettura motorizzata benzina, 1.120 CV in allestimento Connect, ha percorso solamente 44.000 km ed è immatricolata nel 2021. Trovate queste e tantissime altre offerte sul nostro sito ratix.com. ExoRatix!